Minori, autori di reato e mediazione penale minorile. E' il titolo del convegno che si terrà domani presso l'Istituto Ferrari di Battipaglia a partire dalle 10.30. Fra i relatori previsti, la consigliera regionale Maria Ricchiuti, il procuratore della Repubblica del Tribunale per i Minori Angelo Frattini, il questore di Salerno Maurizio Ficarra, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Battipaglia Vita Antonio Sisto, il vicequestore dirigente della Polizia di Battipaglia Lorena Antonia Cicciotti ed il garante regionale per l'infanzia Giuseppe Scialla.